E' una memoria, questi sono bit di registri, qui tiene 1920 bit, si devo tenere sempre acceso Un po' da parte, è di un pulito, pulito Allora gli ha detto questo Prima erano queste fuori in plastica e si rompevano Quindi questa qui già va bene Vediamo di fare un po' di pulizia tutto lì Qua, iniziare a togliere questa roba qua, che è la cinghia Le istruzioni sono messe in un certo ordine Come vediamo codificante, dallo 0 fino al 15, e sono quei 10 Poi ci sono gli indirizzi, che se uno li guarda sembra un po' di essere cavolo Perché c'è, uno li mette i golli, così martelletto Se batte il primo è una posizione, se batte l'ultimo è un po' spostato E allora dice, se io ho i caratteri più larghi li devo mettere un po' in testa Quelli più bassi un po' alla fine Insomma allora se possiamo metterli così Questo è l'interlocco metà Penso che sì Grazie In materia di tecnologia Ma siccome la tecnologia è un fattore primario Che si propaga, lì la bandellina di nickel è saldata su un filo di acciaio armonico Una lega di acciaio armonico Si propaga questo filo di acciaio armonico, qui ci sono 6 metri E poi esci attraverso l'altra bobinetta di lettura Lì c'è l'effetto opposto Che, che si preparato Che, che si preparato